San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico, questa mattina all'interno della sede dell'assessorato al turismo e cultura all'interno di Palazzo Gile a Campobasso, la presentazione del programma con le varie iniziative. Gli eventi ricadono in prossimità del ventennale della tragedia della scuola di San Giuliano di Puglia. Il programma è stato ideato e curato dall'associazione culturale Best Stage. San Giuliano è orgogliosa dell'attenzione riservata a distanza di tanti anni, soprattutto sulla rinascita della nostra comunità, così Giuseppe Ferrante, sindaco di San Giuliano di Puglia, che annuncia tante presenze per l'iniziativa. Da come ne parlavamo prima, già parliamo intorno ai 150-200 ragazzi solo per la mattinata del 22, che è un sabato, ma poi ce ne saranno anche altre scuole che verranno a visitare, percorreranno questa giornata insieme a noi. Infatti San Giuliano è un borgo, come dicevo prima nella conferenza, che dopo la ricostruzione è stato logicamente adeguato alle normative sismiche. Non ha nulla da invidiare ai borghi di altre regioni, molto più accendere l'attenzione rispetto al Molise. Tra gli eventi presenti nel cartellone è anche il vaiont di tutti i riflessi di speranza, curato dall'attore e regista Andrea Ortis. È rimasta una sottile ma tenace vena proprio di amicizia, di affetto, che arriva proprio da vent'anni fa o da dieci anni fa, dove abbiamo debuttato con questo spettacolo. Questa vena è continuata nel tempo e adesso insomma si praticizza diciamo in queste due giornate, che si concluderanno poi il 23 in un luogo simbolico, che è il palazzetto di San Giuliano di Puglia, che è un luogo che tutti ricordate, un luogo dove insomma sappiamo, abbiamo tutti passato di momenti molto difficili, ma in quello stesso luogo racconteremo questo vaion di tutti, che prende una piega ambientale, se vogliamo, di rispetto dell'ambiente, del rapporto tra uomo e ambiente, con la partecipazione di una serie di musicisti, molisani, professionisti, che hanno formato un'orchestra e che hanno voluto partecipare in maniera straordinaria a questo evento, che è soprattutto diciamo una carezza teatrale ai genitori, a quel ricordo e anche alla prospettiva futura di rinascita e di riscatto. L'evento è stato organizzato con il Bando Turismo e Cultura 2022. Con il Bando Turismo e Cultura vogliamo valorizzare proprio i siti storici e culturali dell'intera regione, avremo con questo progetto due giornate straordinarie su San Giuliano per valorizzare ancora di più quella comunità. quest'anno ricorre il ventennale dei tragici eventi del 2002, sarà un'occasione per unire ancora di più e sempre di più la comunità di San Giuliano e dell'intera regione.